Questa è una tecnologia che utilizza l'energia elettromagnetica. La tecnologia che utilizza la frequenza delle microonde per la disinfestazione delle radie alimentari nella fattispecie dei cereali e dei legumi. Tutto ciò che viene biologicamente aggredito sul campo da dei parassiti e che successivamente la raccolta necessita di disinfestazione. Il prodotto viene solamente processato attraverso un processo tecnico, quindi uscite solo un riscaudamento. La temperatura che si raggiunge, fra l'altro, di circa 62 gradi è stata verificata attraverso degli opportuni approfondimenti scientifici. Non altera sia le qualità organorettiche del prodotto e tantomeno le caratteristiche di germinabilità. Non altera sia le qualità organorettiche del prodotto e tantomeno le caratteristiche del prodotto e tantomeno le caratteristiche del prodotto e tantomeno le caratteristiche di germinabilità. Non altera sia le qualità organorettiche di germinabilità.